Il Ministero dell'Agricoltura ha decretato il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici avvenuti in Lombardia tra il 2 e il 3 ottobre 2020. Si tratta della piena del Sesia che investì la lomellina occidentale in giornate di forti piogge che provocarono danni anche in altre zone della provincia di Pavia. Il decreto ministeriale accoglie la richiesta di Regione Lombardia e dà il via libera per gli esarcimenti. A darne notizia il deputato della Lega Marco Maggioni che esprime grande soddisfazione per l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale. Ringraziando il sottosegretario Centinaio e il ministro Patuanelli per l'interessamento. Nel dettaglio saranno rimborsati al 100% con contributi in conto capitale, danni registrati alle aziende dei comuni di Bastida Pancarana, Bereguardo, Candia Romellina, Cervesina, Langosco, Palestro, Pancarana, Pavia, Rosasco e Vigevano. Saranno rimborsati anche gli interventi necessari per il ripristino dei canali rigui. In questo caso il territorio interessato è quello dei comuni di Candia Romellina, Confienza, Langosco, Palestro, Robbio, Rosasco e Sartirana Romellina. La piena destesia del 2 e 3 ottobre 2020 fu un evento di portata storica. Numerose aziende agricole finirono completamente allagate. I danni più gravi si verificarono a Candia, con l'esondazione del fiume che travolse la strada provinciale in località Pontessesia, dove finirono sott'acqua un ristorante, un'impresa edile e un allevamento di galline, e all'Angosco, dove a causa dello straripamento del roggione Sartirana si allagò il centro del paese, un evento che non si era mai verificato prima di allora.